Musica Volete farvi la squadra dei vostri sogni? E non avete crediti? Golda.com far per voi e con il codice Joker avrete un piccolo sconticino Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker Siamo tornati su un nuovo pack opening ragazzi Non so se è l'ultimo oppure no Perché non so se metteranno altri giocatori Prima che esca FIFA 16 Ma penso proprio di sì comunque Quindi non so se sia l'ultimo Però ragazzi siamo qua perché? Perché guardate che squadra della settimana che c'è Mamma mia ragazzi Cavani91, Soldato, Rodriguez, Pjanic, Schneider, Nani, Ajev, Sagna, Godin, Rodriguez Hacking Feb E poi c'è Howard ragazzi che è molto buono C'è Saco C'è Feb Ragazzi c'è sta veramente un botto di roba che si può trovare Quindi siamo qua alla ricerca di questi giocatori Poi ovviamente ragazzi ci sono i pacchetti un po' speciali Hanno messo qualche pacchetto da 35.000 Ce ne sono 10 Quindi io per il momento mi vado ad aprire un po' di pacchetti da 7500 Sperando di trovare In qualcosina come sempre Noi abbiamo un po' di pacchetti da 7500 Io non so se tante volte riesco a... Oh Mersager Vabbè ma non è nulla di buono Se mai ce lo possiamo tenere No ma sti cavoli non ci faccio nulla Spero sempre di trovare un giocatore buono Tipo Rodriguez, Cavani, Pjanic Qualche robetta qua Ma spero anche se tante volte mi esca Non lo so veramente Ronaldo, Messi, qualcuno di loro ragazzi Comunque li sto aspettando veramente a braccia aperta E sono veramente contento se mi dovrebbe uscire qualche giocatore buono Comeniamo con questo Vediamo con questo Vai, 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 lo skipiamo Oh, 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 guard Oddio ragazzi non ce l'ho fatto caso Oh, guard Vediamo il nostro guard quanto può costare 90.000 ragazzi Massimo 90.000 Vediamo se c'è qualche altra cosa I crediti sono sempre buoni Ci li piamo Ragazzi, buono così Lo mandiamo nel club Andiamo a aprirci altri pacchetti Andiamo a aprirci i pacchetti da 35.000 Eccoli qua ragazzi Ce ne sono 10 Ci andiamo a aprirci il primo Senza schippare Vai Il primo senza schippare Signori Ramsey Hernanes Che poi sta nella Juve Ramsey Non c'è niente Regà, non c'è niente Quindi vendiamo tutto Vendiamo tutto Non è questo che ci interessa a noi Andiamo a fare lo skip Vediamo se lo skip Ci funziona Moreno Quanto pare per il momento No Ammazza Regà Che schifezza Che schifezza ragazzi Dai Altro pacchetto da 35.000 Dai Cavani Uno di questi Rodriguez E lo skipiamo Morgan Madonna Due argentoni Non c'è niente Regà 4.000 credit Non c'è un cavolo Non c'è un cavolo Regà Porca miseria Che pacchetti fallati Un altro pacchetto da 35.000 E lo skipiamo Shambrani Dimms No regà Non ci credo Non c'è niente Non c'è niente Ma che merda Quanti stiamo? A 6 Ci apriamo l'ultimo Poi ci andiamo a aprire Un po' di pacchetti A 7.500 Sperando che esca qualcosa Alex Dante E la lana Madonna mia ragazzi Madonna mia Che pacchetti fallati Oh Howard doppione Signori Howard doppione Buono così Buono così ragazzi 40.000-90.000 Già ce l'avevamo Quindi Non mandiamo lì Stato a sferimenti Howard doppione Ragazzi Subito due Howard Praticamente Vediamo se riusciamo a trovare Un altro Cosa buona qua Pacchetti da 35.000 Vediamo se c'è qualcosa No Proviamo ad aprire Un altro pacchetto da 7.500 Skip Oh 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 A Gimfeb Signori Vediamo quanto costa Gimfeb 20.000-40.000 Vabbè non costa tantissimo Bellissimo Vediamo se c'è qualche altra cosa Non c'è un cazzo Un pacchetto da 7.500 Ragazzi Mangiamo nel club Buono Nuovo pacchetto da 35.000 Dai così Non lo schippiamo ragazzi Non lo schippiamo Non lo schippiamo Mortacci tua Oh E' meglio che lo schippo Non importa Ci hai fatto una mena Ceppa del culo Ultima pacchetta da 35.000 Signori Ultima pacchetta da 35.000 Lo schippiamo Anche questo Niente Non è possibile Solamente Howard E ci andiamo a avere un altro pacchetto Con me Sì signori Non lo schippiamo Non lo schippiamo Non ci credo Saco Saco Vediamo quanto costa Faccia del cazzo Raga 50.000-100.000 Costa più questo Che quell'altro Bellissimo Vediamo se c'è qualche altra cosa Se butta via niente Raga Madonna mia Saco Raga Allora ragazzi Siamo arrivati quasi a termine Di questo pack opening Purtroppo Non stiamo trovando Nessun altro in forma Ne abbiamo trovati Due Howard Abbiamo trovato Hacking Feb Abbiamo trovato Quell'altro Che non mi ricordo Come si chiamano Quanti ne abbiamo trovati 4 o 5 Amica mi ricordo 4 Comunque non stiamo andando malissimo Però 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 C'è sempre Però Mi potrebbe da qualcosa di più Porca miseria C'è Cavani C'è Rodriguez C'è Piani C'è C'è tu madre pure C'è sta tua sorella C'è veramente Nani C'è il mondo da trovare Mi ha fatto trovare due volte Howard Non potevi risparmiate con un altro giocatore E fammi trovare qualche altra cosa C'è buono C'è pure soldato C'è pure soldato Lì davanti 82 Che potrebbe essere buono C'è stanno veramente tanti Di quei giocatori Dammi Vianic Dammi Vianic Ho io Vianic 85 Comunque ragazzi Dai facciamo così Questo pack opening Può terminare qua Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Siamo agli ultimi pack opening Quindi Fatemi vedere tutto il vostro supporto Al massimo Che poi ragazzi Vi farò Un bel best of moment Dei miei pack opening Sto cercando di prendere Le clip più belle Perché voi ragazzi Sapete che c'erano veramente tanti Di pack opening belli Dove ho trovato veramente Il mondo assoluto Il video potrebbe rimanere qua Ovviamente Spero che vi sia piaciuto Lasciate un bel pollice in su Commentate Condividete Passate alla pagina Facebook Saco doppione Vedete i saluti Se io mi prolungo Vedete 50.000 100.000 Non altro ragazzi Non mandiamo in lista Trasferimenti Vedete Saco doppione Ecco come si chiamava Saco Che non mi ricordavo Quindi siamo a 5 Efe Signori Con quest'altra scolatina Direi che i 30.000 like Siamo in lista Oh mio dio Non ci credo Oh mio dio Non ci credo Ragazzi Godin Non ci credo Durante i saluti Due pacchetti di fila Saco e Godin 75.150.000 Ragazzi Godin 87 Finalmente una scolata Come si deve Questo lo mandiamo nel club Subito Immediatamente Vai Godin One two three Ciao bello È stato un piacere Ragazzi Durante i saluti Giocherigno Trova un over all'87 Godin in forma Ragazzi E la scolata Che ci voleva E nel pacchetto Prima So Quindi sono Porca puttana Sei in forma Ragazzi Due Howard Due So Come cazzo Si chiama So Come ricordo Poi abbiamo trovato Anche Godin 87 E poi Che abbiamo trovato A Kim Feb Quindi sono Sei in forma E un over 86 Ragazzi Un over 85 Come cazzo Si chiama lui Ragazzi Adesso posso Chiudere il video La scolata C'è stata Godin Finalmente Quindi ragazzi Io spero Che questo appuntamento Vi sia piaciuto Mi raccomando Un attimo C'è in su Commentate Condirete Con quest'ultimo Pacchetto Ce ne andiamo A dormire Bella A dormire